Passate le regionali, la frattura però in senno al Comune tra Forza Italia e l'amministrazione Biondi non sembra ricomporsi, anzi. Anche sulla questione dei parcheggi, il vice segretario provinciale, il segretario comunale di Forza Italia, Giorgio Di Matteis e Stefano Morelli, non le mandano certo a dire, come è accaduto in altre occasioni, spiegando che il Comune tratta i residenti come cittadini di serie B. Per i forzisti le decisioni prese sono schizofreniche e anche se l'amministrazione tramite il consigliere Luigi Faccia ha spiegato che per i residenti non cambia nulla, le polemiche anche da parte dei residenti stessi non si placano. Ma le cose, ho voluto puntualizzare la delibera di giunta che è talmente chiara, chi non sa leggerla o impara a leggerla o cerca di fare meno strumentalizzazione, lì io ho detto questo, ho detto come lo dice la delibera di giunta, in quelle fasce che rimangono molti, molti posti delle strisce alle libere è giusto che chi viene da fuori città e deve fare la spesa, poi non ci lamentiamo che chi viene da fuori non trova il posto e quindi rimane fuori città a fare spesa, quindi in quelle fasce senza che il residente perda il diritto delle strisce gialle cerchiamo di occuparle con un disco orario di due ore, è una misura di buon senso e diciamo che non si può fare di più in questo momento in centro. Non è un attacco ai residenti, nel senso se il residente parcheggia e le lascia lì non succede niente, nel senso che il suo diritto è acquisito? È ovvio, non c'è scritto che il residente deve levare la macchina alle 9 e riportarla alle 12, non c'è scritto nessuna parte. Cioè se il cittadino non trova parcheggio però può mettercela? In quella fascia con un disco orario di due ore. Per De Matteis e Morelli i cambiamenti non giovano di fatto né ai residenti né ai cittadini che possono usare i parcheggi per due ore ma la considerazione è anche politica sulle ultime regionali. Per loro i residenti del centro non hanno certo premiato l'attuale amministrazione. Attualmente Forza Italia in consiglio comunale ha due rappresentanti, Daniele D'Angelo e il presidente Roberto Sant'Angelo che però è stato eletto in comune con lista civica e un incarico istituzionale. Questo dopo che Roberto Tinari ha cambiato casacca. Da mesi gli azzurri chiedono confronti con l'amministrazione su questioni importanti che riguardano il centro e non solo. Ma finora l'amministrazione a loro dire è stata abbastanza sorda nei confronti di un partito che comunque è parte importante della coalizione di centrodestra.